Edizione straordinaria! Edizione straordinaria! I bambini e le bambine di classe terza B hanno individuato ben 24 libri per l'estate! Edizione speciale Coronavirus! Mettetevi comodi e... Guidati dalla musica e da queste piccole diapositive potete vedere i libri che saranno divorati durante l'estate! Troverete titoli, autori, una breve trama e il motivo perché è stato scelto! Buona visione! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!